Finalmente è tornato in città un buon numero di visitatori, un trend che i negozianti del centro hanno accolto con gioia, vedendo specialmente nel fine settimana uno spiraglio di ripresa. Ma questo ritorno ha mostrato negli ultimi giorni anche un risvolto negativo, soprattutto tra i commercianti di Via Cappello. Durante i giorni feriali, infatti, sono parecchie le occasioni in cui le ondate di turisti si fermano davanti alla casa di Giulietta, creando dei veri e propri assembramenti davanti alle vetrine senza entrare nei negozi e anzi disincentivando, proprio per questo, secondo gli esercenti, i possibili clienti. Per questo il Comune ha installato dei cordoli che, dalle 8 alle 17, dovrebbero gestire il flusso di visitatori. Una soluzione che sembra non aver risolto il problema sicurezza, a causa delle lunghe code che comunque si formano all'ingresso del sito turistico.